buongiorno a tutti e a tutte oggi parliamo del bonus natale 2024 da poco attiva la piattaforma sul sito noi pia vediamo prima di cosa si tratta cos'è questo bonus natale 2024 dobbiamo inizialmente dire che è una indennità una tantum cosa significa viene erogata una sola volta quant'è l'importo erogabile massimo 100 euro infatti il bonus è proporzionale rispetto ai giorni lavorati durante il 2024 quindi vengono conteggiati i giorni dell'anno solare 2024 è destinata a questa indennità se ai lavoratori pubblici anche a quelli privati è un importo che non viene tassato e soprattutto non contribuisce alla formazione del reddito comprensivo e finire dunque non si pagano le tasse sull'indennità bonus natale 2024 non tutti però possono accedere al bonus bisogna avere dei requisiti specifici il primissimo requisito è non superare un reddito di 28 mila euro non soltanto bisogna avere almeno un figlio a carico nel caso di famiglie monogenitoriali oppure avere un figlio a carico e il coniuge a carico non bastano questi requisiti bisogna avere anche una imposta lorda sul reddito superiore rispetto alle detrazioni per il lavoro dipendente quindi se si hanno questi requisiti si può accedere alla piattaforma e compilare la domanda e ottenere il bonus natale 2024 c'è un caso particolare che è il caso della famiglia monogenitoriale quando è che si considera monogenitoriale una famiglia ci sono diverse tipologie può essere monogenitoriale la famiglia in cui è avvenuto il decesso dell'altro genitore oppure se non vi è stata la registrazione del figlio da parte del genitore che non risulta dunque convivente quando abbiamo a che fare con un'adozione un affidamento o una figliazione da parte di un solo genitore oppure quando abbiamo una convivenza moruxorio in cui l'altro genitore non è fiscalmente al carico quindi sono questi i casi in cui si può parlare di famiglia monogenitoriale quando viene erogato il bonus natale 2024 il nome lo dice natale 2024 dunque viene erogato con la mensilità di dicembre 2024 con la tredicesima che verrà corrisposta appunto nel mese di dicembre 2024 non è un'indenità che viene erogata a tutti quanti a pioggia bisogna fare un'apposita domanda compilare un'apposa domanda sul portale noi pia la scadenza di queste domande è il 22 novembre alle ore 12 a quale tipologia però di lavoratori è rivolta a tutti i lavoratori che possedono i requisiti di cui abbiamo parlato poco fa quindi requisito del reddito inferiore ai 28 mila euro figlio a carico con già carico possono per domanda il personale a tempo indeterminato anche part time sia verticale che orizzontale così come anche i lavoratori a tempo determinato una novità una buona notizia è che anche per esempio i supplenti con un contratto breve temporaneo possono fare la richiesta del bonus natale 2024 per questi lavoratori quindi non soltanto per coloro che hanno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto occorre che il contratto sia in essere che sia registrato e che questi lavoratori abbiano diritto al cedolino di dicembre ora andiamo a vedere come poter richiedere il bonus natale 2024 andiamo in un motore di ricerca cerchiamo il portale noi pia clicchiamo sulla sua home page e facciamo come di consueto il login al portale una volta che abbiamo fatto il login e quindi abbiamo avuto l'accesso al portale noi pia ci ritroviamo nella solita schermata della home page dovremo andare in fondo alla pagina sino alla voce servizi cliccare su stipendiali e andare a cercare richiesta indennità decreto legge numero 113 del 2024 bonus natale clicchiamo e ci apparirà la domanda da compilare ci viene fatto un breve riepilogo con la normativa vigente quali sono i requisiti per poter chiedere il bonus natale 2024 dunque reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno 2024 avere il coniuge almeno un figlio a carico oppure soltanto un figlio in assenza dell'altro genitore ci viene ricordata anche la data di scadenza che sono le ore 12 di venerdì 22 novembre 2024 la domanda è molto semplice si compone di diverse opzioni la prima compilazione che andiamo a vedere è quando stiamo di fronte a una famiglia con un unico dipendente lavoratore con un coniuge a carico e con un figlio a carico bisognerà selezionare il coniuge digitare il codice fiscale del coniuge a carico e verificare la sua esistenza apparirà in questa griglia il coniuge e quindi poi bisognerà spuntare per selezionare il coniuge non basta bisognerà selezionare anche il figlio quindi bisognerà inserire il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico una volta che abbiamo completato questa compilazione dovremo spuntare la dichiarazione di dichiarazione non mendace dei dati compilati e poi cliccare su conferma e salva ricordiamoci infatti che la domanda è una semplice dichiarazione una autocertificazione dell'avere i requisiti richiesti per la richiesta del bonus Natale 2024 nel caso invece di famiglia monogenitoriale dovremo cliccare e spuntare la primissima opzione che ci viene fornita e inserire unicamente i dati del figlio quindi inserire nuovamente il codice fiscale verificarlo spuntare quindi selezionare il figlio appena caricato cliccare sulla sottoscrizione della non dichiarazione mendace confermare salvare e la domanda verrà automaticamente inviata e processata se compilata entro le ore 12 del venerdì 22 novembre 2024 spero che questo video vi sia stato d'aiuto vi saluto e vi auguro una buona giornata vi saluto e vi saluto